Buonasera, buonasera, velocemente qui a te qua, è vero che è stato un momento, ah non ti ripetere, penso non è più significativo per la mia, per la mia vita, e più in mente a vostro, e per i miei sorrisi, grazie. Buonasera, ciao, che bello stare qui a me, ovviamente non ho 10 secondi per dire tutto quello che vi devo dire, è stato un tour eccezionale, siete pazzeschi, vi ringrazio con tutto il cuore, vi ringraziamo con tutto il cuore, e che dire, vi vogliamo bene, non vediamo l'ora di me, passiamo l'ora di me, noi vogliamo stare il più lontano possibile da Alessandro che mi strappa sempre il microfono all'improvviso, però sicuramente ho il tempo per ridirvi che vi amo di brutto, grazie, facciamolo come si deve, con calma, senza furia, senza fretta, signore e signori Alessandro presto, grazie. Bene, bene, ragazzi abbiamo fatto parlare Alessandro senza camicia in questo momento, quindi è un buon risultato e noi ne siamo fiedi, alla fine del tour ragazzi, non litighiamo per questo microfono, bene. Questa scimmia rossa è molto carina, però ragazzi dobbiamo tornare nelle nostre postazioni, quindi spiace. Ci riveneremo dopo, grazie, comunque, grazie. Chiunque ha fatto questa scimmia è un grande, e quindi la restituisco, perché non posso accettare di venire a lui, perché sono troppo preziosi e ve li dovete tenere. Grazie. Questo è un medico agustico di tre artisti internazionali che amiamo, e lo vogliamo dedicare a voi. Questo momento è molto intimo, quindi dobbiamo essere intimi tra noi, anche tra voi, abbracciatevi, fate qualcosa. E questi sono i Gare Jack, ragazzi, ancora. Sono i Gare Jack, grazie a voi. E speriamo che il nostro amore non finisca mai. Grazie. 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 , Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti